L'imprenditore che ha trasformato un villaggio affacciato sul Mar Rosso in una delle mete turistiche più visitate a livello mondiale mette gli occhi su campione d'Italia. Il finanziere Ernesto Preatoni, milanese 76enne che attualmente risiede a Lugano, ha già effettuato un sopralluogo nella casa da gioco chiusa dal 27 luglio scorso dopo la dichiarazione di fallimento e sarebbe pronto a trasformare il casino in un hotel di lusso. Preatoni che con altri imprenditori negli anni 90 ha reso Charm & Shake una meta a 5 stelle sarebbe intenzionato a realizzare all'interno del casino di Campione d'Italia un albergo di lusso. Il sindaco Roberto Salmoiraghi conferma nei giorni passati ci è arrivata una richiesta per poter visitare l'edificio. Questo perché ci sarebbe la volontà di verificare la fattibilità di un progetto di recupero creando un albergo di lusso e lo scorso lunedì mattina è avvenuta la visita. Non conosco però i dettagli. Dalle prime indiscrezioni, circolate già nelle scorse ore, l'idea sarebbe quella di realizzare l'hotel occupando due dei nove piani dell'edificio ed è solo una delle numerose idee emerse per il recupero della casa da gioco dopo la dichiarazione di fallimento e una chiusura che insieme alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune ha messo in ginocchio l'intero sistema economico-sociale di Campione. Prima della comparsa sulla scena di Ernesto Preatoni già in passato si era parlato di un hotel di lusso nella struttura o di una conversione dell'edificio o di parte di esso in una struttura ricettiva specializzata nell'organizzazione di convegni e meeting a livello internazionale. Altro progetto, quello dell'ingegnere Fernando Di Simone che ha proposto al sindaco di fare un centro commerciale polivalente scavato nella roccia e collegato al Casinò così come si era anche cercato di esplorare il settore dei grandi eventi e della cultura utilizzando la struttura come un contenitore di prestigio. La proposta è più attendibile e risale però a poche settimane fa quando un gruppo di imprenditori svizzeri guidati dal gruppo Artisa ha dichiarato di essere pronto a mettere 100 milioni di franchi sul tavolo di Campione. Nel gigante, progettato dall'architetto Mario Botta, troverebbero posto una clinica ad alta specializzazione appartamenti sia medicalizzati per gli anziani sia residenziali e un museo d'arte internazionale, una sorta di Guggenheim campionese.